Facciamo una prova con il Fender di Revento e vediamo le modalità dei piganti tutti i cantori aperti, i piganti entrambi attivi come i baghetti entrambi come i piganti entrambi come i piganti entrambi come i piganti entrambi come i singapore in un altro coil adesso abbasso un pochino dei volumi in maniatore i piganti non si influenzano l'uno con l'altro tutte le due ambaghe due sette no? ecco due e due in avanti E' un accordo. un'abbastanza dinamico un'abbastanza dinamico al botte un'abbastanza dinamico un'abbastanza dinamico un'abbastanza dinamico un'abbastanza dinamico un'abbastanza dinamico al contrario sento la differenza Carino come gioco, manica P90 e buon tirambagher. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Siamo sul canale del vibrato. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.